Continuiamo a puntare su una Sicilia che sta già crescendo e deve continuare a crescere in tema di sviluppo delle infrastrutture e su quello che è riuscito a fare la nostra isola in questi anni, una regione che è cresciuta dal punto di vista turistico, della reputazione internazionale e nella sicurezza, puntando essenzialmente sull'occupazione dei giovani. Tutto il resto sono chiacchiere. Questo è quanto affermato dal ministro Alfano in occasione della sua venuta a Raffadali per l'inaugurazione del centro polivalente dedicato al generale della Chiesa. Noi continuiamo a puntare su una Sicilia che sta già crescendo e che deve continuare a crescere. È inutile che noi giriamo attorno. Il tema essenziale per questa terra è l'occupazione, lo sviluppo che determina lavoro per i nostri giovani. Tutto il resto sono chiacchiere. Come realizzarlo? Dobbiamo realizzare puntando sulle infrastrutture e puntando su quello che è riuscita a fare la Sicilia in questi anni, che è cresciuta dal punto di vista turistico, dal punto di vista della reputazione internazionale, anche dal punto di vista della sicurezza, che è stata la base per realizzare tutto questo. Se noi vogliamo crescere dal punto di vista turistico, dobbiamo assicurare condizioni di sicurezza che rendano il nostro territorio frequentabile dai turisti. Era inimmaginabile, durante le stragi di mafia, sostenere il turismo nell'isola. E questo io credo che sia un risultato di questi anni. Grazie alle leggi che abbiamo approvato, noi siamo riusciti a realizzare condizioni di sicurezza che hanno determinato una migliore reputazione. Il turismo si fonda sulla sicurezza e sulla reputazione. Noi abbiamo realizzato esattamente questi obiettivi per la Sicilia. Tutto questo non basta perché il difario infrastrutturale è ancora alto. A chi viene qui a cercare di prendere i voti del sud, avendo la testa e il cuore solo al nord, come Salvini, noi diciamo che se si è seri come noi non crediamo che lui sia, bisogna occuparsi del divario infrastrutturale del sud. Noi abbiamo fatto tanto, non abbiamo fatto tutto, ma non vorremmo avere come avversaria la Lega Nord. La Lega Nord non deve essere l'avversario per colmare il divario infrastrutturale al sud. Noi l'alta velocità non l'abbiamo e la vogliamo. Noi il ponte sullo stretto non lo abbiamo e lo vogliamo. La Lega fin qui è stata un avversario dell'eliminazione del divario infrastrutturale del sud. Se invece di fare i promotori dei referendum per fare rimanere più soldi al nord, Salvini pensasse al divario infrastrutturale al sud, sarebbe quantomeno onesto intellettualmente, cosa che noi non crediamo che sia. Finisolo, lei è stato presente a queste iniziative con lo CSE. Che cosa è scaturito? Noi abbiamo dimostrato ancora una volta che la Sicilia è al centro del Mediterraneo e che noi possiamo essere il vero ponte anche dal punto di vista della sicurezza con i paesi del Mediterraneo. L'OSCE è una grande organizzazione, la più grande a livello europeo, che raccoglie il consenso di 57 paesi, non solo europei, e che si è aperta al Mediterraneo con una partnership con altri sei paesi della sponda sud. Questo significa che molti e molti interlocutori, mi riferisco ai ministri, ai viceministri, hanno potuto ragionare su come garantire la pace, la stabilità e la sicurezza nel mondo attraverso la pace, la stabilità e la sicurezza del Mediterraneo. Qual è la posizione dell'Italia nei confronti della Catalogna? Il nostro governo ha avuto una posizione molto chiara sulla vicenda catalana. Noi non riconosciamo questa dichiarazione unilaterale di indipendenza, la riteniamo fuori dall'ordinamento giuridico e quindi la pensiamo come inaccettabile. Riteniamo anche che sia importante il dialogo per ripristinare delle condizioni che siano condizioni di unità della Spagna in termini effettivi e quindi senza una escalation delle tensioni, ma pensiamo anche che questo dialogo debba avvenire rispettando la Costituzione spagnola. Grazie.